benvenuti su master and servant e eicudo eccoli lì siamo qui per il vlog di chiusura del nostro primo la prima collaborazione sfida 4 da tunisi e marrakesh appunto con nell'ordine delle figurine che vedo io smois di master and servant ciao ragazzi eicudo come nel video iniziale ciao jalinar con lo stesso lag ciao a tutti e ol qui ciao e siamo qui per quindi fare un veloce reso conto di quello che è successo nel mese di dicembre con un piccolo contributo in gennaio di qualche giorno ritardato per colpa di questo maledetto natale che vuole cadere tutti gli anni ma non si capisce come mai e che finalmente ci siamo levati dalle palle possiamo tornare a giocare tutti i giorni a che bello i miei parenti e vi ricordo velocemente quello che era successo nel vlog di apertura abbiamo estratto a sorte quattro nazioni scelte da noi in modo improprio e ci siamo accorti anche abbastanza sbilanciate e assegnate a uno ciascuno una nazione ciascuno con dei malus e dei bonus l'obiettivo era di giocare al massimo 100 anni e in quei 100 anni conquistare fare un core su tunisi e marrakesh chiaramente alla chiusura del secondo core il gioco doveva chiudersi oppure arrivare alla prossima fino ai cent'anni di gioco e gli obiettivi da portare a termine erano chiudere il prima possibile fare l'income più avere l'income più alto avere il numero di armate più alto il numero di navi più alto e lo sviluppo più alto quindi erano questi cinque obiettivi che abbiamo messo in una classifica e per ogni obiettivo per la posizione per ogni posizione in realtà abbiamo deciso di dare 40 30 10 40 20 10 e 0 punti e regola che non abbiamo detto ma che abbiamo dovuto decidere in corso d'opera che un pari merito significava dividere a metà il il punteggio se la posta in gioco o un terzo insomma e perché ci siamo appunto trovati in quella situazione siete riusciti a pareggiare nella cosa più improbabile tra l'altro si infatti tra l'altro adesso lo vediamo e vogliamo fare una velocissima analisi delle partite ciascuno parla della sua va bene parto io parta tu parto io va così allora portogallo ed ero partito pensando che sarebbe stata una partita sfigatissima invece ho scoperto di aver beccato il bug cioè la squadra che franga squadra cioè la part la la nazione che francamente era la più facilitata nel raggiungere l'obiettivo credo di averlo già detto nella serie ma io avevo fatto una partita su cui ho avuto un problema nella registrazione in cui addirittura avevo chiuso con una guerra quindi questo questo mi rende conto di quanto fosse facile detto questo nella partita si è dimostrata tutta la mia incapacità in europa universale squadro perché ho beccato di tutto dagli ottomani che mi sono sbucati in casa senza che me ne accorgessi si ma hai vinto ho vinto non so perché sono scomparti nel nulla da soli sono sbucati sono riscomparti hanno fatto tutto loro io non neanche scontrare forse ho fatto una battaglia navale si si sono venuti a farsi un giro in portogallo sono venuti e poi boh e poi per me è stata una riscoperta di europa universali squadro devo dire una partita molto mirata all'obiettivo senza molti svolazzi portata a velocità 8 mila tanto non avevo niente altro da fare sì velocità smodata e mi sono divertito mi sono divertito a scoprire che non sapevo fare tante cose e l'ho scoperto in realtà guardando voi che non sapevo fare tante cose ottimo andiamo su smois con il suo napoli napoli è stata piuttosto del previsto anche se è andata molto meglio delle partite di prova che ho fatto questa è andata leghissima in confronto la guardia di l'indipendenza in realtà non crea problemi però mi sono reso conto di quanto invece la nazione piccola e all'inizio povera abbia rallentato tantissimo cioè alla fine mi ritrovavo quasi in condizioni di parità contro la tunisia piuttosto che contro il marocco e e poi lo mi sono reso conto di un'altra cosa quando facendo le sfide a obiettivo non ha nessun senso impostare la partita anche sotto tutti gli altri aspetti come se fossero aperte a continuare infatti ho fatto un disastro perché mi sono tenuto troppi alleati mi hanno trascinato in guerra quando invece avrei dovuto attaccare io il marocco e chiudere la partita ho perso una decina quindicina di anni già solamente lì quindi ecco quello mi ha lasciato un po l'amaro in bocca perché ho fatto le cose giuste ma non per l'obiettivo che avevamo infatti vedremo insomma poi quando quando scoprirete la classifica vedrete vedrete bene tutte le varie sorprese era francamente l'inizio peggiore comunque c'è poco da fare cioè napoli era di gran lunga la nazione peggiore con cui giocare anche se è stato veramente divertente devo dire è napoli divertente se non l'avete giocato ve lo consiglio giocate napoli perché è bello e aveva il bonus di 10 punti che però un po più ciccione forse sì beh il papato ha avuto una una cosa fantastica che può fare all'inizio può far solo il papato che la rende chiaramente sgrava ovvero può scomunicare tutti e scomunicando aragona impedisce che aragona faccia alleati e la partita è un po più in discesa perché da lì riesce a prendere le baleari e fare un claim su su clam c'è anche se non sbaglio abbiamo utilizzato tutti come come perno attorno a cui ruotare per riuscire arrivare fino a marrakesh quindi le partite erano simili partendo comunque chi dal terreno chi dalla dall'altra parte del del mediterraneo tutto sommato è stato divertente perché è stata una partita breve di solito europa come diceva smois pensi sempre ok devo riuscire arrivare fino al 1690 invece qua devi riuscire a prendere tutto il prima possibile quindi non so come ha fatto il kudo a giocare a velocità 5 cioè io a volte stavo in pausa due minuti a guardare dire se faccio questo succede questo se no succede quell'altro però è deformazione diciamo da da giocatore perfezionista e perché tu sapevi tante cose io non le sapevo quindi davanti vabbè beata ignoranza però alla fine il risultato è stato simile esatto e vabbè io ho francia ho fatto ho pescato la nazione più fortunata perché vabbè una potenza economica militare già da è mostruosa diciamo che in europa universalis è tra le potenze più forti se non quella più forte e avevo un malus non troppo malus molto probabilmente e vabbè durante la partita mi sono alleato a train channel usata come zona di sbarco e non l'ho conquistata non subito perlomeno e e poi ho fatto anche una guerra contro l'inghilterra tanto per così non farci mancare giusto scusa che francese saresti stato che mi stavo facendo alto una partita così senza più un obiettivo e la francia aveva un sacco di fronti da seguire e poteva farcela le altre nazioni no no però mi rendo conto che giocando contro l'inghilterra molto probabilmente mi sono mangiato un paio di azioni che mi avrebbero permesso di chiudere prima al di là della velocità 5 4 3 che vabbè io ho registrato 7 episodi e probabilmente quella è una partita da 4 5 episodi ma spanno però poi io sono comunque un inetto quindi mettete era anche la cosa bella era anche il bello non cercare la partita perfetta ma una partita con tutti i suoi problemi perché altrimenti tutti facciamo la partita perfetta fino che non la limiamo e arriviamo per dire dico solo che il papato viene rivalato dalla francia solo in una partita ogni 10 di media e io ho giocato quello in cui è stato rivalato dalla francia no io potevo sì ho avuto la prima guerra contro aragona poi sono sceso giù però mi sono divertito un sacco in ogni caso più che altro perso tempo perché sapendo di avere un malus ma non avendo ben presente quanta quanto sarebbe stato pesante quel malus ho cercato di tenere gli altri gli altri elementi di un po più in alto per evitare di arrivare prima ma con super malus e perdere tutto comunque chi se ne frega ci siamo divertiti speriamo che voi a casa vi siate divertiti un sacco e vediamo la classifica insomma la ciccia stiamo aspettando troppo stiamo aspettando già troppo e quindi partiamo in ordine di pubblicazione dei video quindi siamo col nostro caro giallinar e papa giallinar primo in realtà il nostro caro giallinar ha chiuso la partita nel 1474 volete sapere già qual è la posizione di questa chiusura e no è no ha chiuso nel 1474 con un income di 11.98 ducati o fiorini o quello che è 22.000 armate 31 navi e uno sviluppo di 285 punti non avevamo bonus e malus quindi è partito così subito dopo arriva il nostro smois con napoli che ha chiuso nel 1496 praticamente nell'epoca moderna con un income di 5 94 armate 15.000 20 navi e uno sviluppo di 222 fatto apposta immagino e bonus di 10 punti poi abbiamo eicudo con il portogallo che ha chiuso nel 1475 con un income di 10.64 fiorini o ducati sono ducati pezzi d'oro pesos portoghesi scatole di sardine gigante esatto armate 18.000 22 navi e uno sviluppo di 1600 e si 1600 ciao 169 unità e poi arriviamo alla francia che ha chiuso nel 1477 26.76 income quindi potevo comprarmi anche l'aragona armate 40.000 31 navi come colui che viene nominato papa e quindi santo e quindi uno sviluppo di 510 facendo tutti i conti che io vi risparmio perché non siete non siamo matematici tranne alcuni di voi immagino ma non è problema e adesso successo è successo che dopo aver assegnato tutti i punti il quarto classificato è Moise cucchiaio di legno cucchiaio di legno che ha solo preso punti per lo sviluppo e poi purtroppo si è fregato come ha detto con altre cose tipo l'alleanza ringraziami per lo sviluppo che non insomma non è neanche cosa fosse lo sviluppo prego io infatti ci ho speso pure punti sullo sviluppo io non l'ho fatto perché manca se non fosse è servito è servito esatto qualcosa è servito andiamo al terzo classificato con un totale di 50 punti ha chiuso con un totale di 30 punti con un totale di 50 punti abbiamo e il kudo e il portogallo andiamo al secondo il secondo classificato con un totale di 130 punti quindi hai raddoppiato più che classificato giallinar oh e chi è l'ore e chi è l'ore e chi è l'ore e chi è l'ore al primo posto abbiamo all con la francia sono io l'ore con 10 40 punti adesso però adesso però io e smois vi dobbiamo dire che vi abbiamo fatto vincere perché siamo gentili abbiamo detto facciamoli ci siamo trovati prima abbiamo detto facciamoli vincere fingiamo di non saper giocare di sbagliare ci siamo trovati un po sorpresi dal fatto che si è riusciti nonostante tutti i numeri le variabili ad avere un pareggio nel senso che avevamo esattamente lo stesso numero di navi il papato con i francesi e quindi era lì cioè avrebbe deciso chi avrebbe vinto quindi abbiamo deciso semplicemente di spaccare in due il premio per le navi è buona consideriamo anche che non stiamo contando le navi e le armate lo sviluppo del dell'unico vassallo credo che noi quattro abbiamo avuto ovvero io avevo algeri ma non è stato calcolato nel punteggio e è giusto così perché non avevamo detto però diciamo che sia stati proprio lì lì eravamo lì lì ci siamo trovati in valida sta chiedendo la barre praticamente rivedere tutta la partita è stato divertente da giocare e da vedere tre quattro stili diversi di gioco è vero molto 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 divertente speriamo quindi si è piaciuto tutti quindi possiamo dire che all è chiaramente il miglior giocatore no l'unica cosa che possiamo dedurre da questo gioco è che la cultura la capacità la tecnica lo studio non servono un cazzo cino come quello del sottoscritto basta avere la francia e poi praticamente la francia e tutte le porte sono aperte viva l'ignoranza non studiate ragazzi domina la francia è un pessimo messaggio però va bene abbiamo perso il cudo ecco non studiare non se l'è sentita cioè non ce l'ha fatto io me ne vado sul bel faccino me ne sono andato lasciato lo studio è fatto bene come sgarbi assolutamente capre esatto quindi per non lasciarvi andare così io direi di dare appuntamento o dire al nostro popolo che ci segue il popolo di francia noi ci siamo divertiti quindi è molto probabile che in futuro si andrà a organizzare di nuovo una partita assieme una collaborazione di qualsiasi tipo e se volete proporre qualcosa che andremo a ignorare bellamente fatelo nei commenti di questo video o in entrambi canali o sulle pagine facebook che usiamo con grande esperienza social voi quattro e così cercheremo appunto di tenerlo in considerazione migliore avrà una foto nuda di all sì ha detto che un bel faccino quindi ci manda manderà la foto nuda al vincitore immaginati il resto questa è una minaccia e sappiatelo cerca di immaginare il resto se questo è il faccino e io chiuderei con sfruttando l'idea del nostro buon giallinar che in quanto papa è saggio e rispondiamo al volo ai commenti che ai commenti a due tre commenti non troppi che sono fioccati sui nostri canali vai allora faccio la prima domanda poi chiunque voglia rispondere ci hanno chiesto ma non credete fossero un po sbilanciate le nazioni di partenza testi cazzi si con sempre poi giusto un ciccino ma in realtà non tanto per napoli quanto probabilmente non so se è d'accordo il cudo il portogallo che era praticamente una porta aerei puntata verso marrakesh è vero è vero il portogallo avrebbe potuto veramente vincere nel giro di 20 anni assolutamente cioè ripeto nella partita di prova a noi invece sì perché nella partita di prova potenzialmente c'è la partita di prova che però non era di prova l'avevo registrata ma avuto un problema alleato con la castiglia nella prima guerra prendevo marrakesh e tunisi di coravo prima però non avresti fatto punti sviluppo e altre cose ma ecco l'altra cosa l'unica cosa che secondo me aveva è che con tutti quei punti assegnati a sviluppo armate navi obiettivamente uno stato così tanto più grande come la francia faceva tanti punti infatti la domanda è ma ci sarebbe stato un modo per riuscire a superare la francia in alcune categorie tipo quella dello sviluppo non credo anche le navi ci pareggiato perché lui non le ha costruite però per esempio mi viene da dire ma è molto improbabile avrei potuto perdere su per esempio le armate se avessi preso il core perdendo bruciandomi tutte le armate a quel punto sarei rimasto con poche armate perché non erano in power però è proprio un'evenienza difficile anche perché da quando da quando fai partire il core a quando ottieni il core le puoi ricostruire tutte quindi sì è difficile ecco se mi avesse asfaltato l'inghilterra avrei potuto perdere ma se perdevi con gli inglesi meritavi tutto la guerra dei cent'anni non si può no la francia l'ho sempre detto l'ho detto anche durante let's play era forse una scelta sgravata mettiamola così abbiamo scelto cioè i kudo e smois hanno in modo oculato estratto i biglietti e copiate non giunti non è stato casuale quindi ecco con napoli comunque avevi a differenza delle altre tre una guerra di indipendenza di mezzo quindi di sicuro partiva svantaggiata anche solo per il fatto che parte pure in tregua con con aragona quindi sono già una decina d'anni bruciati così poi un'altra domanda che ci hanno fatto che o meglio che hanno fatto anche questa smois è perché ha scelto le idee difensive che adesso non vorrei ricordare male ma forse le ho scelte pure io non so se li ho anche prese però ce li ho anche avuto una partita così breve le idee sono secondarie ovviamente però c'è chi ci ha chiesto perché quelle e non invece quality o ad altre perché tanto non le avremmo non solo non completate ma era già tanto arrivare alla seconda idea del gruppo e secondo me le prime di difensive sono fra quelli militari superiori a qualsiasi cosa salvo forse con gli ottomani partire con quantity perché perché fa bello partire con quanti con gli ottomani cioè quel punto se il bonus morale che dalla seconda delle difensive più 15 per cento è la base di moltissime strategie per sopravvivere all'inizio noi non dovevamo semplicemente sopravvivere ma sarebbero durate 30 40 anni le nostre partite quindi assolutamente sensato se ci fosse stata ancora la idea svulte ovvero l'idea che adesso è finita come ultima nelle religiose avrebbe potuto avere senso prendere quella perché avresti avuto subito il caso sbelli chiunque di noi contro tutti gli infedeli musulmani del nord africa semplicemente confinando ma non ce l'hanno spostata quindi se l'ha messa come addirittura bisogna proprio completare tutte quante e ti viene data gratuitamente come però insomma nessuno di noi avrebbe potuto completare nessun'idea assolutamente no infatti no infatti io ho trovato un'altra cosa sbilanciata non so se voi l'avete trovata sbilanciata la scelta di chiudere o alla fine dei cent'anni o al conquistare il corso secondo me va rivista cioè era meglio forse dare una data chiudiamo una data così alla fine dei cent'anni e facciamo tutti gli altri punteggi al centesimo anno e poi aggiungendo un malus più alto alla francia è un bonus o dei bonus diversi in base alla nazione quindi un malus anche a portogallo dei bonus a papato e a napoli in proporzione napoli deve fare una guerra è un po più incasinata probabilmente avremmo eh portato il gioco un po più sul sull'equo e c'è da dire che c'è da dire che arrivando ai cent'anni secondo me sarebbe cambiato poco nel senso che nessuno avrebbe comunque battuto la francia perché non bastava secondo me il tempo vero la francia andava tolta sì la francia forse era troppo grossa è vero forse era troppo grossa no però tra queste quattro nessuno avrebbe battuto la francia il papato francamente era guidato benissimo quindi cioè sarebbe rimasto secondo non l'avremmo mai raggiunto e Smoise è andato molto più avanti di me e ce la giocavamo però se ci pensi tu sei andato molto più avanti in realtà come tempo ma comunque come sviluppo come a parte lo sviluppo come armate eri più indietro quindi non credo che la tassa sarebbe cambiato molto no infatti beh contando che come armate era poco più indietro eh come armate 3.000 se le nostre sono finite nel 74 76 vuol dire che abbiamo giocato praticamente 30 anni mentre Smoise ha giocato 50 anni quindi non eravamo neanche a me tra dei cento sì 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 esatto sì ovviamente non sarebbe cambiato tantissimissimo ecco no ma la francia però il problema è anche il bello di europa universalis 4 è che non ci sono quattro start uguali ma neanche simili quindi trovare una quarta nazione che potesse competere con le tre o anche eliminando il portogallo sarebbe stato difficile trovare un altro però insomma cercheremo di sorprendervi nelle prossime esatto magari fuori dall'europa forse fuori dall'europa potrebbe essere più semplice però bisognerebbe vedere dove forse in africa forse nel golfo di guinea quattro da imio quattro isolette sperdute anche quattro da imio mi viene male quattro guindiani potrebbe essere una buona cosa l'isola ecu no ecudo va bene va bene quindi possiamo chiudere qui sì 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 così sveli così sveli quando abbiamo fatto sto video però spoiler spoiler vediamo chi è attento sono i migliori e quindi io direi di dare un ciao ciao a tutti ciao a tutti quante mani che salgono alla prossima alla prossima ciao 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 Grazie a tutti